Poi ci si chiede perché succedono gli incidenti. Guardate cosa è successo proprio sotto il mio naso. Siamo sulla statale 38, strada con due corsie a doppio senso di marcia, corsie separate da una bella striscia continua. Davanti a me è una macchina bianca e davanti alla macchina bianca una macchina nera con un idiota dentro. Guardate adesso cosa fa l'idiota con la macchina nera. La macchina bianca pianta all'improvviso i freni al centro della corsia perché deve girare a sinistra, deve andare dal benzinaio infischiandosene della striscia continua e delle macchine che vengono dal senso opposto a velocità. La macchina bianca riesce a schivarlo, ma pensate un po' cosa sarebbe successo se la macchina bianca, anziché schivarlo, l'avesse tamponato. L'avrebbe spinto sulla corsia opposta, si sarebbe in questo modo creato un mega incidente frontale, verosimilmente con morti e feriti. Io ho questo della macchina nera, vorrei proprio conoscerlo, per fare i miei complimenti, per la sua carriera spianata da unicida stradale.